salve a tutti eccoci qui oggi a parlare degli aspetti conflittuali della luna con mercurio la luna è la nostra parte emotiva collegata al femminile tradizionalmente e comunque rappresenta le nostre emozioni mercurio al contrario rappresenta il nostro pensiero il nostro pensiero logico e voi capite che capite già da questa prima descrizione che sono due funzioni di noi all'interno di noi che sono abbastanza in rotta di collisione perché la luna è abbastanza assimilata al cervello destro e mercurio indubbiamente al cervello sinistro logico razionale cosa succede quando questi pianeti sono in aspetto conflittuale allora quando sono in quadratura la persona come sempre quando ci sono degli attriti la persona è molto sollecitata è sempre in movimento ha un'idea che si sussegue all'altra perché naturalmente collaborano in senso magari conflittuale ma c'è uno scambio fra questi due pianeti per cui la luna sente un'emozione mercurio vuole subito agire su questa emozione quindi vuole creare qualcosa vuole dare impulso per muoversi a fare qualcosa e quindi spesso le persone luna mercurio quadrato sono delle persone sempre in movimento a volte in maniera più o meno caotica a volte in maniera più o meno produttiva però diciamo che questo conflitto che avviene dentro di loro fra la loro parte razionale la loro parte emotiva non provoca delle situazioni molto molto pesanti di solito perché comunque la persona proprio in seguito al fatto di avere questa energia che la spinge deve agire per cui sono persone anche che si muovono molto sull'onda di quello che sentono in quel momento quindi non vivono proprio esattamente un conflitto fra la loro parte razionale la loro parte irrazionale diciamo che sono sempre in movimento perché danno retta ora all'una ora all'altra e a volte queste due parti collaborano dando luogo a delle creazioni a qualcosa che la persona fa e mette in piedi nel mondo voi capite che essendo anche la luna un archetipo materno e mercurio un po l'archetipo del fanciullo del bambino di quello che fa un po le marachelle bisogna anche un attimo tenerla a freno il fatto di avere nel proprio tema natale questo conflitto di quadratura fra luna e mercurio identifica anche dei possibili vissuti in ambito familiare con la figura della madre che si poneva in maniera più o meno conflittuale col soggetto questo è quel che succede quando la luna in quadratura mercurio vediamo ora cosa succede quando la luna in opposizione a mercurio quando la luna in opposizione a mercurio i giochi sono molto più espliciti nel senso molto più identificati la persona si identifica di volta in volta a seconda anche di quanto viene supportato più o meno nel suo tema natale la luna o mercurio perché potrebbe essercene uno dei due che ha degli aspetti che lo fortificano molto facili e l'altro che ha degli aspetti più penalizzanti ovviamente uno ha un po la prevalenza e a seconda di quale ha la prevalenza l'altro viene buttato si può dire nel regno delle ombre cioè prende forma nelle persone che questo soggetto incontra che si comporteranno come il pianeta che lui non ha integrato supponiamo una persona abbia la luna molto ben messa per cui è molto sostenuta è prevalentemente una persona lunare questa persona si scontrerà molto spesso con delle persone che la giudicano male perché è troppo emotiva con persone che nella loro vita usano prevalentemente la logica per muoversi nella loro vita e quindi si troverà in conflitto con delle persone che di volta in volta le rappresentano questo principio che le sta di fronte come un qualcosa come una forza da integrare spesso la persona luna mercurio ha un'interruzione negli studi la persona luna mercurio opposti perché mercurio è lo studio razionale e l'emozione è quel qualcosa che fa sì che a un certo punto noi ne abbiamo abbastanza dello studio cioè che comunque irrompe nella nostra situazione emotiva qualcosa che per cui questi due pianeti fanno cortocircuito fra di loro e quindi spesso c'è un'interruzione degli studi non è detto che poi non vengano ripresi però di solito sperimentalmente ho visto che quando c'è un'opposizione luna mercurio spesso la persona ha un curriculum scolastico non così lineare questo succede quando c'è l'opposizione luna mercurio cosa succede quando c'è il quinconce allora quando c'è il quinconce voi sapete che è la beffa come io la definisco perché quel pianeta anche in questo caso che è più penalizzato perché è meno sostenuto da altri pianeti gioca il ruolo di quello che se ne sta dietro le quinte che tiene e che tende gli agguati mentre l'altro quello che è più sostenuto è quello che è più in luce nel modo di comportarsi nel mondo di questa persona facciamo l'esempio in questo caso contrario di un quinconce dove luna quinconce a mercurio e il mercurio sia molto sostenuto la persona quindi nella la sua vita ha un atteggiamento prevalentemente razionale nel porsi nei confronti della vita cioè fa scelte dopo averle ben ponderate eccetera eccetera e normalmente agisce così e si trova un suo equilibrio in questo modo però purtroppo la luna sta in agguato nel quinconce e che cosa succederà succederà che quando meno se l'aspetta succedono degli eventi che la scuotono emotivamente e praticamente portano alla ribalta questa luna che fino al momento prima era stata dietro le quinte e la persona magari nel bel mezzo di una situazione di un esame di una situazione dove prevale la razionalità a gestire la situazione la persona ha un'uscita assolutamente emotiva fino a un attimo prima imprevedibile perché è successo qualcosa che la smossa e la persona non ce l'ha fatta controllarlo perché voi sapete che le emozioni sono molto più veloci dei pensieri cioè una persona vi dice qualcosa ma prima ancora che voi abbiate espresso un parere su quello che vi viene detto la vostra faccia e tutto il vostro corpo sente l'emozione suscitata da quello che l'altro vi sta dicendo e si sta già muovendo comunicando all'altro e al mondo cosa voi sentite rispetto a quello che l'altra persona vi ha detto quindi le emozioni sono molto molto più veloci dei pensieri ed è chiaro quindi che sono incontrollabili per antonomasia nel senso ci vuole veramente un lavoro su di sé per gestire le proprie emozioni perché bisogna capire da dove originano queste emozioni e che cosa è in grado di suscitarcele e perché ci fa trascendere oltre misura il fatto che qualcuno ci dica la tal cosa o il fatto che succeda il tale evento è un lavoro che bisogna fare dentro di noi per capire perché ci succede dopodiché siamo in grado di prevedere ragionevolmente che ci troveremo in una situazione che sarà emotivamente provante però il fatto che già noi lo sappiamo è molto diverso perché se noi non ci giudichiamo per questa nostra libertà che concediamo alle nostre emozioni di salire di diventare consapevoli noi poi ne diventiamo consapevoli diventiamo anche molto più facilmente in grado di gestirle quindi questo è molto importante come sempre dico io quando avete dei due pianeti in cui inconce in questo caso luna e mercurio abituatevi a pensare che nella vostra vita dovete sempre cercare di coordinare la vostra parte razionale con la vostra parte emotiva se per esempio state decidendo supponiamo avete il coinconce luna mercurio siete in un negozio state decidendo di comprare un vestito la scelta dovete accorgervi se la state facendo prevalentemente in base alla vostra emozione o in base alla vostra logica cioè se ragionate questo vestito mi serve per andare là oppure se vi siete fatti affascinare da in senso evocativo da quali emozioni vi suscita questo vestito perché dovete comprarlo se tutte e due queste parti di voi sono concordi che questo vestito voi lo metterete altrimenti succederà che voi lo comprate e dopo di che quando l'avrete comprato l'altra parte tenderà l'agguato vi dirà ma no ma io non esco assolutamente vestita così ma ti immagini le persone cosa pensano di me questa è la luna che è stata tenuta è stata tenuta sotto il tappeto nascosta il vestito è stato scelto solamente in base alla parte mercurio razionale e la persona poi ai suoi vissuti emotivi per cui non se la sente di mettere quel vestito viceversa nell'altro caso vi piace tantissimo il colore sull'onda dell'emozione lo comprate e poi vi rendete conto che in effetti non avete degli ambiti adatti in cui usare quel vestito lì perché magari che ne so un completo interamente fucsia in ufficio non lo potete mettere non è adatto all'ufficio sembra di andare a un ballo invece che andare in ufficio ecco quindi abituatevi a ragionare che quando avete il quinconce dovete essere vigili e domandarvi ma sono d'accordo tutti questi dei dentro di me a comprare questa cosa siamo d'accordo che la metto che mi piace ok quindi questo è quando c'è il quinconce quando c'è la congiunzione come abbiamo detto più e più volte è impossibile per i pianeti disgiungersi perché devono collaborare per forza e quindi la congiunzione luna mercurio porta una bellissima sintesi di parte razionale di parte emotiva che collaborano insieme di fatti le persone luna mercurio congiunte sono persone che di solito sono molto empatiche con gli altri sanno parlare alle persone sono anche molto portate per il teatro per la recitazione per poter portare in pubblico le loro emozioni perché sono vicine alla loro parte razionale quindi riescono a portarle in una maniera che possa essere compresa dagli altri questo per quanto riguarda la congiunzione tenete presente però che la congiunzione non è né positiva né negativa di per sé perché dipende che aspetti riceve perché una congiunzione luna mercurio che per esempio ricevesse un quadrato di urano è chiaro che questo urano il rivoluzionario che preme in maniera obliqua verso questo bel matrimonio luna mercurio cosa farà solleciterà le singole parti e molto probabilmente sotto la spinta di questa quadratura di urano e la luna mercurio che sono così tanto innamorati l'uno dell'altro collaborativi spesso e volentieri avranno dei momenti in cui si disgiungono e le decisioni vengono prese o con la parte razionale o con la parte emotiva a seconda di quella che si che prevale in quel momento è proprio come se l'urano agisse per diciamo che è il terzo elemento del triangolo che rompe questo matrimonio però è tutto molto provvisorio momentaneo passeggero è come una scarica elettrica che arriva si disgiungono e poi ricominciano a collaborare insieme ecco tenetelo presente perché se avete un urano in quadratura questo aspetto di congiunzione che di per sé è favorevole può essere un po' pesantino da reggere come tensione che genera ecco viceversa se l'urano fosse intrigono ovviamente si arriva alla genialità perché essendo un aspetto positivo collabora a questa unione di mente razionale e di emotività dando il tocco della sua genialità ecco così vi ho anche dato un accenno di come si ragiona simbolicamente quando si interpretano i temi natali cioè si vivono proprio queste entità questi enti questi dei dentro di noi come delle vengono quasi personificati e le loro interazioni vengono proprio capite e interpretate come se si trattasse di persone che interagiscono fra di loro a quel punto lì il quadro è molto molto logico e facile da intuire che cosa può succedere ecco qua con oggi abbiamo finito di parlare della luna con mercurio la prossima volta parleremo della luna in aspetto conflittuale con venere grazie e arrivederci a tutti